Diamo ora il benvenuto ad Adriano Weiner Galli, coordinatore delle guardie zoofile e ampana di Cremona e responsabile del centro recupero animali selvatici. A lui chiediamo un bilancio dell'attività del 2016 portata avanti a tutela degli animali. Per quello che riguarda l'attività di vigilanza zoofila, il 2016 è stato un anno piuttosto intenso, come del resto lo sono tutti gli anni, ma soprattutto intenso per noi poche guardie sul lungagnone territorio cremonese e si auspica sempre che nuovi adepti arrivino a frequentare i corsi per potersi inserire nel corpo delle guardie zoofile. Comunque, il 2016 ha presentato le caratteristiche degli anni pregressi, ossia per noi controlli effettuati su alcune situazioni a rischio di maltrattamento e controlli anche mirati su un fenomeno e su una pratica incresciosa che è quella della distribuzione, disseminazione dei veleni. Su questo vorrei rimarcare proprio questo fenomeno, questa pratica che rappresenta un reato molto grave per evitare che si effettuino anche in futuro molti casi di avvelenamento di animali. L'aver derubricato la qualifica delle nutrie, non più ad animali selvatici, a semplici animali da cortile, animali come i topi, come le arvicole, come le nutrie, ha fatto sì che molte persone ritengono lecito intervenire con sistemi ordinari per questi animali, come i ratti. E questo invece non va bene perché disseminare veleni sui terreni, in particolar modo terreni agricoli, si intende sì, probabilmente colpire qualche nutria, ma soprattutto altri animali. Questo per quello che riguarda una, come dicevo, attività molto diffusa. La vostra sede da due anni si è spostata, si è da Calvatone ora. Sì, come centro recupero animali selvatici ci siamo trasferiti a Calvatone essendo all'interno del parco rifugio la cuccia in nido, essendo più strutturato questo complesso per l'attività di recupero di animali selvatici. Nel 2016 abbiamo movimentato un 700-800 animali con una percentuale di recupero piuttosto significativa che è del 60%. Bisogna sempre considerare che gli animali quando arrivano al centro recupero, animali selvatici, sono animali in condizioni oramai molto precarie. E quindi il recupero ci dà una notevole soddisfazione, la percentuale di recupero. Puoi farci qualche esempio di animali di specie che sono state salvate? Mammiferi, caprioli, lepri, poi abbiamo avuto listrice, adesso non ricordo bene se è stato, nel 2016 o 2015, volpi e così via. Per quello che riguarda poi i rapaci, falco di palude, un'infinità di poiane, insomma tutti i rapaci autottone, e poi tutti, parecchi martin pescatore, ecco che... E poi anche, ecco questo è un aspetto nuovo, molti pipistrelli, che è buona cosa, è la presenza sul territorio dei pipistrelli, però noi abbiamo fatto interventi molto importanti su parecchi pipistrelli. Ecco, brevemente, com'è possibile diventare guardia zoofila? Sappiamo che in provincia di Cremona c'è proprio la necessità. C'è proprio la necessità, guardia zoofila è un percorso formativo che parte da un corso solitamente di 120 ore, dove l'aspirante deve naturalmente frequentare per poi essere valutato attraverso un esame. Benissimo, grazie davvero e buon lavoro ad Adriano Vainer Galli, ricordo responsabile delle guardie zoofile Ampana di Cremona e responsabile del centro recupero animali selvatici. Grazie ancora. Grazie a lei, buonasera.